Il saluto dei nostri ospiti, il primo in scaletta è il professor Angelo Couto, locutore di storia locale. Buonasera a tutti e un grazie particolare al professore Stefano Orca che come ogni ultimo sabato del mese ci permette di osservare delle opere di artisti locali ma che in realtà sono quasi conosciuti in ambito italiano almeno se non internazionale. Per noi in realtà di Vincenzo Icrolli c'è da dire che forse una sua opera viene abitata penso un po' da tutto il mondo perché in una sua opera si trova l'Ordio Cambrillus l'affresco di Ediruta per cui penso che anche non conoscendo l'artista anche gli israeliani hanno avuto modo di ammirare il suo modo di rappresentare i personaggi renderli diversi, anche se i personaggi classici perché in quella posizione che è una mangiulla che dovrebbe essere venere è un scritto che in realtà sono dei classici personaggi napoletani il classico Scugnizzo e la mele è una semplice è una semplice fanciulla per cui è un artista osservato da tutti però forse non conosciuto e grazie al maestro e professore Stefano Morca noi abbiamo modo ora di conoscere anche il personaggio le sue tecniche e il suo stile grazie